Oggi nell'aula di Strasburgo Pietro Bartolo ha portato la voce di chi ha visto da vicino quello che accadeva dieci anni fa con il naufragio che abbiamo ricordato in aula in maniera solenne. Io mi limito a dire questo, dopo quel naufragio l'Europa non ha fatto abbastanza, ma in Italia e in Europa abbiamo costruito le condizioni in quel momento per una scelta che dovremmo replicare. Lo ha detto anche la segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein, cioè la scelta di Mare Nostrum. Per questo suonava un po' poco rispettoso, un po' imbarazzante in un'occasione così importante sentire il collega Procaccini di Fratelli d'Italia dire che loro non hanno strumentalizzato e che dopo Cutro invece ci sono state reazioni e critiche. La differenza è questa, dopo la tragedia di Lampedusa una parziale risposta con Mare Nostrum è stata iniziata da parte nostra e diciamo oggi che questa dovrebbe essere ripresa. Dopo Cutro abbiamo visto la criminalizzazione delle ONG e abbiamo visto la vergognosa scelta del pizzo per uscire dal CPR che è stata giustamente cassata dalla magistratura. Quindi prima di dire certe cose invito i colleghi a riflettere bene sulla differenza di risposta in termini di scelte, di valori e anche di umanità, soprattutto in una giornata come questa. Continuano a fare dei provvedimenti che sono contro l'ONG, contro queste persone, continuano a fare accordi con paesi terzi, vedi Sayed che è un altro dittatore. Sembra che noi abbiamo la predilizione di fare accordi con dittatori, l'abbiamo fatto con la Turchia, l'abbiamo fatto con la Guardia Costiera Libica, lo stiamo facendo, l'hanno fatto anche con Sayed che non funziona, l'abbiamo visto dopo 30 anni, abbiamo visto che tutte queste attività non funzionano, le persone continuano ad arrivare e continuano a morire. Quando sarebbe giusto fare il mondo e fare arrivare queste persone attraverso i canali regolari, attraverso i corridoi umanitari e liberare quel mare da quelle nefandezze, cioè dire che quel mare deve tornare a essere un mare di vita, un mare di sostentamento, un ponte verso l'Africa e non un cimitero.